La Holzbau Sud di Calitri riparte da qui. Alle spalle di un grande progetto c'è la dedizione. Dedizione per il materiale, la dedizione di creare qualcosa di memorabile con il libro. La Holzbau Sud riparte da qui. La Holzbau Sud di Calitri sigla il più importante cantiere d'Europa completamente in legno, la stazione della metropolitana di Napoli presso il centro direzionale della città. Dal 2006 la Holzbau Sud di Calitri inizia gli studi e le elaborazioni statiche del progetto e dieci anni dopo, nel 2017, acquisisce la commessa che porterà poi a iniziare i lavori del più grande cantiere in legno lamellare a febbraio 2018. La Holzbau Sud di Calitri riparte da qui. La Holzbau Sud di Calitri riparte da qui. Oggi, ottobre 2020, la struttura è interamente completata. Mi ricordo ancora la prima volta che siamo venuti a fare un sopralluogo a centro direzionale. Purtroppo a centro direzionale poteva essere un progetto magari molto bello, però qui a Napoli io credo che era veramente l'opposto della città. Quindi abbiamo pensato che è bello che finalmente arriva un movimento sotterraneo come tutta Napoli. Da sotto arriverà la gente con la metropolitana, scurgerà in questo luogo che è così poco napoletano. Facciamo qualche cosa che assomigli più alla topografia napoletana, a un magma o un po' qualche cosa che viene dal sottosuolo, dalla terra. E quindi abbiamo immaginato qualcosa di più naturale che rompesse un po' questa idea molto geometrica del centro direzionale. E quindi c'è una stazione che è come un magma e che utilizza i materiali naturali dove la gente si può sentire più a più come quasi dentro una foresta, dentro un bosco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.